Buongiorno e benvenuti ad Ecco tua madre. Il mio nome è Nick Miravalle e sono un professore di mariologia proveniente dagli Stati Uniti ed è per me una grande gioia raggiungervi ogni giorno nelle vostre case per parlare della madre di Gesù che è anche madre nostra. È una grande gioia rendersi conto che dalla croce Gesù diede ad ognuno di noi sua madre come nostra madre e quindi in questa serie parleremo dei diversi aspetti e dei diversi lati della bellezza della Madonna e sicuramente ci sono così tanti elementi di bellezza su Maria che potremmo andare avanti a parlare senza fine delle vere glorie di Maria, madre di Gesù e nostra madre. Oggi voglio riflettere su una domanda che viene spesso fatta ed è Maria era un semplice strumento usato da Gesù? In altre parole Maria fu semplicemente usata da Dio come un mezzo fisico per portare Gesù nel mondo e dopo aver svolto questo compito, Maria perse significato per noi? Ovviamente no. Dio non userebbe nessuna donna come una semplice madre surrogata impiegata unicamente come uno strumento e come una semplice produttrice di bambini. Dio rispetta troppo le donne per fare questo. Per questo quando Dio mandò l'angelo Gabriele per proporre a Maria di essere la madre di Gesù, la risposta di Maria fu una risposta pienamente personale, un assenso libero, femminile, volontario alla volontà di Dio e grazie al sì di Maria la seconda persona della Trinità divenne uomo. Madre Teresa una volta mi disse certo che Maria è la corredentrice, ha dato il suo sì e Gesù ricevette il suo corpo attraverso di lei e quel corpo fu ciò che ci salvò. E questo amici miei è così importante per noi. Anche noi infatti dobbiamo ogni giorno imitare Maria, anche noi ogni giorno dobbiamo dare il nostro sì a Dio, così che Dio possa entrare nel mondo tramite noi. Ma nessuno ha fatto tutto ciò molto bene come Maria. Anche la liturgia, la preghiera della Chiesa, ci dice che è una meraviglia della natura, che una creatura diede vita al suo creatore. Questo accadde solo una volta, soltanto una volta in tutta la storia. Dio si fece uomo e scelse di farlo tramite una donna. E quindi vedremo nelle prossime puntate parlando di Maria come lei, nostra madre e anche madre di ognuno di noi. Maria ha un particolare amore per te. Ci donna comprende le tue necessità, conosce le tue difficoltà, conosce le tue tribolazioni ed è per questo che Gesù disse dalla croce, ecco tua madre. Gesù non voleva che noi affrontassimo le nostre sfide senza una madre. Gesù voleva che affrontassimo le nostre sfide con la forza di sua madre. Per questo motivo Papa Francesco ha detto numerose volte che un cristiano senza Maria è un orfano. Gesù vuole che accettiamo questo suo regalo ed è un regalo che Gesù diede direttamente ad ognuno di noi quando dalla croce disse ecco tua madre. Quindi Maria non è solamente uno strumento fisico ma ci dà anche un contributo personale femminile. Ed è per questo che dopo che lei diede il suo sia alla nascita di Gesù, Maria continua ancora oggi con lui nel suo piano di salvezza. I padri della chiesa dicevano che Maria è la nuova Eva che ha accompagnato il nuovo Adamo nella restaurazione della grazia per l'umanità intera. È una gioia incredibile che Gesù ci donò sua madre e nostra responsabilità riceverla. E ancora abbiamo il grande esempio di padre Pio. Lui ebbe un tale amore per nostra signora, una tale intimità con lei che la chiamava la mia cara corredentrice, mediatrice e dispensatrice di tutte le sue grazie. Non dovremmo quindi avere un rinnovato apprezzamento, una rinnovata attenzione per il regalo di Maria? Perché la nostra domanda non dovrebbe essere se Maria sia nostra madre. Questo ce l'ha già detto Gesù. La nostra domanda dovrebbe essere come meglio ricevere Maria come madre? Come possiamo vivere il quotidiano riconoscendo Maria come nostra madre? Ci appelliamo a lei nelle nostre difficoltà e se facciamo questo amici miei accontenteremo Gesù più di chiunque altro perché ricordate Maria è un suo regalo. È stato bellissimo essere con voi. Ricordiamoci ogni giorno di ringraziare Gesù per il regalo di Maria e di vivere le sue parole. Ecco tua madre, che Dio vi benedica. Gesù per il regalo di Maria, che Dio vi benedica.